Salve a tutti amici di Marcosbox e benvenuti in questa piccola video recensione di un'applicazione molto utile per tutti coloro i quali hanno un Minix, un Minix Neo con Android, nel mio caso, nella fattispecie, un Minix Neo X7, un'applicazione per smartphone e tablet Android che consente di trasformare il nostro smartphone o tablet Android in un telecomando per il Minix Neo, un telecomando che ha accesso tramite la rete Wi-Fi, appunto, riuscirà a controllare il Minix, riuscirà a emulare sia la tastiera sia per quanto riguarda il vero e proprio touch, come se fosse un mouse. Quest'applicazione si chiama RK Remote Control, ce ne sono diverse versioni di questa applicazione, la versione più vecchia, che è la 2.0.2, presente sul sito della Minix, ha delle funzionalità in più che qui non sono state riviste nella versione più recente, la 2.04, nello specifico mi riferisco alla possibilità di gestire meglio la tastiera, perché qui, come vedremo nell'ultima versione disponibile, la gestione della tastiera è un po' farraginosa per quanto riguarda alcuni comandi, nella vecchia versione compariamo una tastiera a schermo, mentre in questa viene utilizzata la tastiera del nostro device. Comunque, riusciamo comunque a controllare il dispositivo in maniera efficace anche con l'ultima versione. Allegato al post, poi, vi lascerò le indicazioni per scaricare sia la vecchia versione che quella più aggiornata. Andiamo a vedere l'applicazione, spostiamoci sul tablet, ecco di qui, andiamo un po', a fuoco, ok. Allora, andiamo a lanciare la nostra applicazione RK Remote. Eccola qua, al primo avvio dell'applicazione ci verrà chiesto di connetterci al dispositivo. Selezioniamo il nostro dispositivo, ok. Questa è l'interfaccia di questa applicazione. Abbiamo il tasto indietro, il tasto home, il tasto multitasking, due tasti di controllo, uno per quanto riguarda il tocco del mouse e la funzionalità appunto di mouse, l'altro per quanto riguarda la tastiera virtuale. Come vi dicevo, in questa nuova versione, la 2.04 di questa applicazione, la tastiera è quella di, di fatto, quella del device sul quale noi andremo a scrivere la vecchia versione. Invece aveva una tastiera integrata che aveva un input immediato, quindi invece dovremmo andare a dare invio ogni volta che noi andiamo appunto a dare un comando. Andiamo a vedere le altre funzionalità di questo programma. Abbiamo il controller. Questo è di fatto un telecomando. Abbiamo la possibilità di spegner, mutare, cambiare, andare avanti, zoom, alzare il volume e quant'altro. Game per trasformare il nostro dispositivo Android in un gamepad per il nostro Minix. E poi, ovviamente, ecco qui. E poi c'è il comando per poter spegnere e chiudere l'applicazione. Quindi apriamo l'applicazione e vediamo subito di fare un test. Allora, vediamo se riusciamo a vedere. Allora, no. Abbassiamo il tablet, facciamo così, e spostiamoci. Esco un attimo da l'inquadratura perché altrimenti non riesco a riprendere sia il tablet che il Minix. Però, allora, come potete vedere allo schermo, io sto muovendo qui e il comando viene dato in tempo reale su Minix. Possiamo appunto aprire l'applicazione. Possiamo gestire i tasti, normale, con il doppio tocco, altrimenti, che ne so, abbiamo il multitasking premendo il tasto apposito sul controller. Facciamo una prova di scrittura. Andiamo su internet. Andiamo su Sede di Danza. Clicchiamo sulla tastiera. Apriamo la tastiera. E adesso andiamo a digitare il nostro indirizzo. Per esempio, clicchiamo MarcosBox. Faccio vedere che l'ho scritto digitato sulla tastiera dell'applicazione. Andiamo a dare il comando Send. Premendo Send, il testo che noi abbiamo scritto è stato riproposto sul Minix. E adesso spostiamoci. Ecco perché vi dicevo, l'archivazione era un po' più semplice perché aveva la scrittura in tempo reale. In questo caso poi andiamo a dare Vai. Per poter dare l'input. Spostiamoci. Ecco qui. Io lo sto gestendo adesso in tempo reale grazie a questa applicazione. Naturalmente, su un tablet quanto scomoda, l'utilizzo più immediato si ha su uno smartphone perché è più comodo a gestire da tenere in mano come se fosse un vero telecomando. Come vi ho detto precedentemente, ci sono anche comandi aggiuntivi come quello per la gestione, diciamo, semplice, per spegnere e tutto il resto. Oppure di un videogioco. In questo caso non vi metto nessun videogioco perché non ho installato nessun videogioco su Minix. Scorrimento. Sposta la pagina. Con le due dita. E quindi possiamo fare tutte le nostre applicazioni. Andiamo nel multitasking. Ecco qui. Che ogni volta sbaglio. Un attimo. Ecco questo per esempio non è tanto comune. Per esempio la gestione delle applicazioni su multitasking. Clicchiamo. Ecco adesso. Ecco qui. Una parola. Riposizioniamoci. Volevo farvi dire che è praticamente per poter scrollare l'applicazione. Ok. Non funziona. Il bello della diretta. Comunque. Torniamo a noi. L'applicazione è compatibile con Android. Versione 5.5.1. Perché l'ho provato anche sul mio Nexus 4. Semplice da utilizzare. E' efficace. E vi consentirà di non dover collegare un mouse o una tastiera al vostro Minix e di utilizzare semplicemente il vostro smartphone per poterlo controllare. Tanto oramai il smartphone è sempre a portata di mano. Quindi tanto vale utilizzare una funzionalità di questo tipo. Con questo concluso. Lunga vita e prosperità. Ci vediamo con la prossima video recensione. Bye bye.